Domenica, una brutta sconfitta da archiviare. Verso Cantù che sensazioni hai? Secondo me ogni partita ha una storia a sé. La sconfitta di Domenica è stata dura da archiviare ma l'abbiamo fatto e adesso abbiamo grande voglia di riscatto a Cantù. Sei convinto di poter sfruttare qualche occasione nelle prossime gare pur partendo dalla panchina? La partita dalla panchina non è sempre semplice però sono convinto che piano piano il mio desiderio è quello di mangiare poco a poco sempre più minuti in campo e magari fare anche una bella prestazione per la mia squadra. In condizioni arriva la squadra alla sfida con Cantù, squadra che conosci bene per averla già affrontata lo scorso anno? Arriva in una situazione dove ovviamente avendo perso l'ultima partita ha voglia di rifarsi. Cantù è una squadra in teoria molto forte che per adesso sta andando in modo un po' altalenante. Quindi in teoria c'è la possibilità di fare una bella sfida e una bella partita. Toccherà solo a noi di mostrare sul campo.